Da queste poche immagini vi potrete già immaginare cosa combinano Jerry Lewis e Dean Martin venendosi a trovare in mezzo a questo branco di belle raguette. Ma per il vostro divertimento ve ancora di più. Questa volta Jerry Lewis si è travestito da ragazzino. Le ragioni di questo suo travestimento sono molteplici. Una delle principali è quella che un gangster vuole la sua pelle. Poi c'è una graziosa professoressa che piacevolmente gli insegna come comportarsi con le ragazze. Senti, tu vai con le ragazzine, le grandi lasciale a me. Dean Martin ricorre alle belle canzoni per conquistare il cuore dell'amata. Poi Jerry Lewis dirige magistralmente un coro. Il tono è troppo alto. No, no, non era male affatto. Grazie. Wilber! Fermalo, è un ladro! Lo tengo! Non puoi sfuggirmi, stai tranquillo! Non scapperà! No! Non scappare! No! 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 Grazie a tutti.